ciao amici cos'è che non può mai mancare a tavola in inverno che se inizia a mangiarne una poi non smetti più le ciliegie ma come le ciliegie e sai una ciliegia tira l'altra ma le ciliegie sono primaverili non invernali io mi stavo riferendo alle noci frutta secca dai molti benefici tra questi le noci aiutano a mantenere il peso costante nel tempo contrariamente a quanto si possa pensare e a combattere il naturale rallentamento del metabolismo con l'età lo ha rivelato un nuovo studio condotto dai ricercatori dell'università di harvard vediamo insieme come le noci possono darci una mano a mantenere la linea se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video lo studio rivela che fare gli spuntini con frutta a guscio può fare ingrassare di meno e anzi le noci possono ridurre in modo significativo il rischio di obesità certo senza esagerare la frutta secca è ricca di minerali vitamine e fibre per la salute naturale ma è anche calorica l'ideale sono 14 grammi a spuntino non di più i partecipanti allo studio sono stati pesati e sottoposti a questionari ogni quattro anni anche le nocciole hanno effetti benefici simili alle noci naturalmente ci sono altri studi in corso e casi sotto osservazione ma di certo integrare le noci nella nostra dieta quotidiana male non fa l'importante è non mangiarle alla sera dopo cena perché risultano pesanti avete visto amici come è facile rimanere in forma con le noci come spuntino per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile mangia consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali